Il creato, ma noi da fine dobbiamo riconsegnare il creato come ci è stato dato da Dio, pulito, no? Noi siamo i custodi, ma non i ristruttori. Allora dobbiamo riprendere un po' anche il fatto di discorso di tutto quello che ci sta intornando a noi, specialmente le terre di quella appunto... Ma che è di notte, non lo facciamo. Di notte, è sicuro che la faccio dare. Va bene. Allora, vogliamo... Aquilano Davide. È un attestato del progetto di pratica del territorio, prodotti tipici e tofici del territorio. Ha questo bello angolo. Vediamo questa... È bello, ferma, che lui te lo dà e tu ti fai un aperato di bollo. Dai, metti qui, gira qua, gira qui. Ok. Gira il ricordo. D'Alessandro Gaglia. Gira. Gira. D'Artista Emma. Di Sante Domenico Andrea. Famiani Giuseppe. non si chiama. Non si chiama. No, no. Guri. Giri da parte di basso. 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 Bravo, bravissimo. Poliletto Claudia Santoro Maria Selicanto Noemi Maggiassi Antone Dattaglia Francesco Vitelli Micaela Dattaglia Beatrice Sì Allora Adesso dobbiamo dare Non mi vuole Dobbiamo dare una stessa Maggiunga Perché Non tutti Hanno attuato Secondo i parametri Non mi vuole Non mi vuole Dattaglia